Buonasera, oggi parliamo di un bando chiamato Parco Agrisolare. Si tratta di un incentivo nazionale dedicato solo ed esclusivamente a due tipi di imprese, agricole e agroalimentari. Queste imprese che possono avere la sede in tutta Italia con un fatturato minimo specificato nel decreto di 7 mila euro l'anno, purché sia superata questa soglia, le imprese che intendono investire nell'acquisto di moduli fotovoltaici e o smaltimento dell'amianto sul tetto e successivo inserimento e impianto di moduli fotovoltaici possono ottenere dallo Stato un incentivo sotto forma di fondo perduto fino al 50% delle spese da sostenere. Si tratta di spese da sostenere in futuro, da almeno dal giorno successivo l'invio della domanda fino ad un massimo al diciottesimo mese successivo, quindi un anno e mezzo dopo. La spesa massima è di 750 mila euro, quindi in un esempio come possiamo fare di solito, 750 mila euro di spesa possiamo avere fino a 375 mila euro di fondo perduto dallo Stato. Tutto è parametrato alla superficie del tetto che è interessato dall'investimento. È un bando di cui ad oggi non sappiamo ancora la data di apertura, solo fondamentalmente tutto il resto sappiamo, tranne la data di apertura che avverrà con un decreto successivo si pensa verso settembre ottobre 2022 e molto probabilmente potrà essere un click day l'invio della domanda. Grazie e alla prossima!